musica musica vediamo un po' pastorone pastiglia anche ok quasi ah finalmente allora queste saranno le nive i fiori qui le luci ok cominciamo ah 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 finito che adesso mi manca che devo mettere solo le luci ah 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 finalmente ho finito di mettere le luci ora non mi resta che devo fare l'albero allora svegliati dai oggi è natale intanto vado a svegliare Giovanni ah che bello regali che bello che bello proprio quello che avevo chiesto a babbo natale la mia bambola preferita che è Elena vediamo che regalo ha avuto che regalo ha avuto che regalo ha avuto che regalo ha avuto una e qua un'altra e qua un'altra ma perchè mi hanno regalato solo delle tante e avevo chiesto solamente un iphone ah che scemo ma perchè adesso me le butti mamma ah 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 mangia i capelli allora giochiamo a questo gioco tu quale vuoi di questi e questo e io prendo questo poi vado io con il lato due e tre cinque uno due tre quattro e cinque adesso tocca a te cinque e tre otto uno due tre quattro e cinque mamma vedi che vado a fare a giocare con le mie amiche con la neve ok non rientrare tardi ciao Remo apparecchia la tavola qua che bevano va bene Remo vai a gettare le scatole dei regali di Elena uffa vedo un po' che caso ci aveva detto che non ci dava niente per le vacanze eh e poi l'ultimo giorno cosa ci vorrei a dire leggete questi quattro libri e invece loro cosa fanno durante le vacanze passano le famiglie con i propri parenti e passano anche i capodanno invece io guardo a studiare ragazzi anche questo video sul natale è terminato spero che vi sia piaciuto lasciate un bel mi piace un bel commento dove mi consigliate altri video che porterò in futuro iscrivetevi soprattutto al canale e condividete questo video su facebook seguitemi anche su instagram vi scrivo il nome della crici qui sotto e da me e mia sorella alla prossima e buon natale ciao 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 ciao